lecce inter 1 a 2 è tornato il campionato è tornata la clamorosamente pazza inter perché questa non è pazza inter questa è clamorosamente pazza inter un gol al primo minuto con lukaku un gol al 95esimo minuto con dunfris in mezzo il pareggio di si se un turbinio di negativismo e di vecchi spettri che si sono fatti vivi qui sull'inter un inter non brillantissima come mi sembra abbastanza logico che sia quando siamo ad ancora ad agosto ancora prima di ferragosto ma è un inter che rimette fuori il cuore e che è stata in alcuni momenti della gara anche molto sfortunata ma alla fine finalmente un pizzico di fortuna con l'ultimissima occasione l'ultimo spazio l'ultimo sospiro di questa gara il gol di denzel dunfris che regala la prima vittoria stagionale dell'inter in trasferta sul campo del lecce ne ho promosso gara tosta fisicamente durissima contro una squadra che ha picchiato duro che probabilmente avrebbe dovuto rimanere in dieci ben prima anzi non ha chiuso in dieci ma avrebbe dovuto chiudere in dieci la gara per un'espulsione che manca nettissima per quanto riguarda baschi rotto un fallaccio su su lautaro martinez che ha fatto anche nervosire molto la partita simo è una vittoria poi adesso commentiamo come si è sviluppata la partita tutto quello che abbiamo visto andiamo anche un po più sul tecnico però cavolo mamma mia che sofferenza no è stata una partita dove ci sono ce la siamo un po complicata da soli perché io più di una volta nelle scorse settimane dicevo che mi sarei aspettato una gara difficile a lecce però per come si era messo dopo i primi 20 minuti mi aspettavo sinceramente una vittoria non dico facile però una vittoria senza dover sudare troppo invece poi come spesso accade l'inter è abilissima nel complicarsi la vita da sola e arriva a prendere l'uno a uno poi subentra anche un po di nervosismo subentra un po di fretta fin da subito e di fatto dicevamo prima poi sicuramente ci vorrei tornare simone inzaghi grande coraggio con i cambi mette in campo tutti gli attaccanti un po alla murigno senza fare i cambi diciamo conservativi ma proprio buttando in campo tutti tutti in avanti anche per quel motivo l'inter forse inizia un po troppo spesso a cercare il lancio lungo eccetera alla fine contro un falcone che e non è una notizia non è una breaking news però falcone fa i miracoli come fu consigli come fu vicario e tutti i soliti tranne sull'ultimo tiro dove c'è questo cross che che l'autaro spizza e o meglio prova a girare e poi Dumfries la accompagna in rete arrivando ad aggredire il secondo palo ce lo siamo meritati è sinceramente parlando perché sta partita qui finire con l'uno a uno e sapere quello che sarebbe accaduto dopo i commenti bene facciamo schifo non ce lo saremmo meritati alla prima giornata quindi grazie Denzel grazie Denzelone assolutamente sì assolutamente sì simo partiamo da qui innanzitutto raccontiamo la partita chi magari se la fosse persa un inter che parte con due scelte abbastanza sorpresa a livello di formazione ovvero Di Marco e Darmian dentro dal primo minuto al posto di Bastoni e Dumfries che poi invece sono stati praticamente decisivi Dumfries con il gol Bastoni che ha buttato dentro tanti palloni a me è piaciuto molto anche l'ingresso in campo di Mkhitaryan che ha fatto meglio di un Cialanoglu un po' nascosto invece durante questa partita però l'inizio di partita è stato molto promettente come dicevamo Lukaku in gol subito in un'azione per l'ennesima volta nata da Di Marco che col cross trova proprio Darmian sulla destra i due ingressi a sorpresa hanno confezionato il gol messo dentro da Lukaku e come dicevi giustamente tu ad un certo punto della partita abbiamo sottolineato quanto c'era mancato Lukaku cioè sembrava proprio che ad ogni azione fosse un pericolo costante e creasse parecchi problemi alla difesa del Lecce poi che succede ho visto anche un Barella molto attivo molto dentro la gara si nervosisce la gara quanto quando non viene espulso Baschirotto per un fallo durissimo su Lautaro Martinez quando si comincia ad entrare nella partita più agonisticamente cattiva l'Inter cala e infatti dopo il ventesimo l'Inter non aveva più creato grandissime occasioni da gol il secondo tempo pronti via si apre con un gol subito dove c'è un po' una complicità a livello di gol subito secondo me tra Brozovic e Skriniar che non hanno seguito bene si se anche qui vedremo quanti gol farà si se magari ne farà tantissimi però siamo sempre noi a far sbloccare questi giocatori particolari diciamo così l'Inter lì comincia a fare le prime sostituzioni fuori Brozovic e Gosens entrambi che arrivavano anche da qualche problema fisico sostituiti come dicevamo da Mkhitaryan che per me ha fatto molto bene mi è piaciuto molto come dava ordine e una visione di gioco superiore lì in mezzo ce l'hanno spostato in mezzo al campo la partita scorre via con il Lecce che prova a ripartire in contropiede tanta densità in mezzo ma l'Inter crea sicuramente un numero di occasioni superiore come dicevi giustamente tu solo Falcone e la nostra mira abbastanza imprecisa hanno fatto sì che si dovesse arrivare fino praticamente al novantacinquesimo per decidere questa questa partita in cui tra l'altro era stato annullato anche un gol a Lukaku per un fallo commesso in area di rigore un palo colpito poco prima proprio sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo Simo possiamo dire un po il campo che non era in ottime condizioni un po l'avversario che giocava con grande entusiasmo ci aspettavamo chiaramente di più e maggiore facilità contro un Lecce che tra l'altro era in emergenza difensiva quindi questo sicuramente va detto però da qui al pensare che si sarebbe demolito questo Lecce 6 a 0 forse non si ha bene in mente che cos'è il calcio e che cos'è il calcio d'agosto soprattutto quindi le difficoltà erano abbastanza scontate forse io prima di questa partita che cosa avevo chiesto cosa mi chiedevo all'inter di farmi vedere chiudere la porta soprattutto non volevo prendere gol e invece anche Andanovic secondo me qualche piccola responsabilità sul gol preso ce l'ha forse poteva fare qualcosina in più ma non è tutta non è colpa di Andanovic secondo me sul gol ci sono altre responsabilità prima e poi prendere un gol in contropiede in vantaggio per 1 a 0 non va bene in generale quindi questa cosa mi è stata un po' delusa ho visto i due attaccanti Luca con Lautaro Martinez non molto cercati mi aspettavo invece un coinvolgimento maggiore soprattutto tra di loro sono stati tagliati sempre i rifornimenti bravissimi difensori del Lecce a disinnescare la combinazione Luca con Lautaro Martinez e in generale ecco forse è chiaro che anche l'avversario non ci ha messo nelle condizioni di esprimere il nostro miglior gioco però ho visto spesso il ricorso al cross dagli esterni in area di rigore cosa che quest'anno pensavo sarebbe stata un po' abbandonata pensavo un po' più gioco a terra un po' più per vie centrali si è visto poco ti chiedo se sei d'accordo se secondo te è una questione di preparazione può aver inciso il campo oppure può essere stato non lo so dimmi no penso proprio che sia una questione di condizione perché poi quando le gambe non girano a mille lo dicevamo già nelle amichevoli e oggi si è visto ancora non sei perfettamente lucido nemmeno di testa ed è normale secondo me che magari non esprimi al meglio diciamo le tue qualità io non credo che l'Inter di Inzaghi giocherà tutto l'anno così cioè quando si comincerà a correre con più libertà diciamo a quel punto vedremo anche un po' più di qualità palla a terra poi quando abbiamo inserito il tridente pesante lì è diventato letteralmente un palla lunga e vediamo cosa creare ma devo dire che in questo caso c'era un po' più di senso rispetto a quando l'anno scorso veniva fatto con Dzeko che era cotto perché era in campo dal primo minuto ed eventualmente Dunfriso Perisic ancora in campo oggi avevi in campo Dzeko peraltro fresco perché era entrato da poco Lukaku che i palloni te li sa gestire facevi densità magari proprio con lo stesso Dunfriso e poi probabilmente la squadra è anche consapevole di non poter arrivare fino al novantesimo con la massima lucidità quindi nel finale si è scelto così anche perché banalmente hai completamente svuotato il centrocampo perché era rimasto solo Mkhitaryan quindi che nel finale si sia giocato così ci sta e lo capisco prima secondo me è dovuto come dicevamo alla condizione fisica detto che comunque tra le mille occasioni che ha avuto l'Inter molte sono nate anche da costruzioni anche discrete non sono state tutte pallone buttato su a caso rimpallo e tiro poi respinto quindi questo comunque va detto nella nella ripetizione della criticità dell'anno scorso e cioè che tiri cento volte fai due gol quest'anno ho visto un po' più di senso un po' più di appunto ok in precisione però per esempio lo stesso Falcone ha fatto tanti miracoli se giochi dieci partite così otto volte fai tre gol diciamo così poi se sei l'Inter magari di meno però in linea generale le statistiche sono quelle. Sono d'accordo Simo secondo me non voglio aggiungere molto su questa partita perché poi faremo un altro contenuto a parte e approfondiremo ulteriormente mi sento di dire un paio di ultime cose la prima è che questa sera dicevi giustamente anche tu forse più murignana come scelta quella di di Inzaghi di andare con tanti giocatori dentro e bello bello da vedere perché dicevamo io ho sempre chiesto al mister anche più coraggio da questo punto di vista e finalmente lo abbiamo visto anziché il solito cambio ruolo per ruolo giocatore per giocatore oggi era una partita che andava assolutamente vinta con i denti con tutto quello che poteva servire e a maggior ragione oggi l'Inter secondo me ha dimostrato di avere tante armi a disposizione e per me anche a livello di profondità di rosa oggi è arrivata una buona dimostrazione diciamo che a maggior ragione oggi il messaggio di Inzaghi va amplificato ulteriormente vanno tenuti tutti dal primo all'ultimo chiudo così con un piccolo segnale screener mi è molto piaciuto quel messaggio di tranquillità voleva tranquillizzare Lautaro Martinez poi l'ho visto uscire abbastanza furioso screener ma credo più con se stesso più per il punteggio che è con il mister chiaramente mi è piaciuto però quel messaggio io chiudo così sì no sono d'accordissimo è chiaro che come dicevamo già per le amichevoli dare giudizi definitivi dopo in questo caso una partita sola è esagerato quindi anche sul tipo di scelta del mister questo fatto che ha messo in campo quattro punte e non voglio dire che sia diventato murigno come faceva lui appunto però l'anno scorso anche in partita che dovevi vincere io ricordo benissimo inter fiorentina in casa dove mi toglie Lautaro in pazzisco si vedeva molto più spesso una paura una certa paura nel fare certe scelte quest'anno prima di campionato a lecce con anche il rischio di perderla è perché il rischio c'era chi se ne frega fuori due centrocampisti dentro due attaccanti e andiamo la vincere e poi la fortuna anche un po lo ha premiato quindi secondo me proseguire su questa strada magari ti fa perdere quella partita in più che invece non riesce a pareggiare ma magari te ne fa vincere tre di più e quindi alla fine il computo è sempre positivo quindi io personalmente queste scelte le approvo se hai qualità ovviamente a disposizione sono d'accordissimo simo e sottolineo anche due tre cose sparse poi le approfondiamo a parte go sense oggi meno bene rispetto a quello che abbiamo visto col via real secondo me mentre molto positivo per me defray mi ha piaciuto molto sempre attento sempre bravissimo in anticipo e spesso dalle sue dai suoi anticipi sono nate delle occasioni offensive importanti giusto sottolinearlo perché secondo me molti sono pronti di sempre ad indugiare su defray che invece ha risposto presente l'inter vince su un campo dove come dicevamo prima nelle ultime tre volte in cui era andata a giocare lì non aveva vinto una sconfitta e due pareggi sul campo del lecce l'ultima volta con conte finì uno a uno anche lì mancava un'espulsione netta come oggi anche oggi un arbitro che ha lasciato molto desiderare secondo me a livello di gestione della partita qualcuno protesta anche per un calcio di rigore mancato non lo so se c'era il calcio di rigore di sicuro però non mi è piaciuta la gestione arbitrale dell'incontro chiudiamo qui ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e come al solito per chi ci segue su youtube qui trovate un altro video da guardare mi raccomando grazie a tutti grazie a tutti